benvenuti bentornati qui sul mio canale vi dico subito di iscrivervi e lasciare un bel like se non l'avete ancora fatto ieri sera è uscito un video per l'iso e la launchman sub oggi sono qui perché questi giorni su Ashika stanno succedendo cose un po' strane che mi sono balzato all'occhio e con i miei compagni di squadra dicevo sempre ragazzi ma come cazzo è possibile che c'è gente che starta la partita come noi e dopo due secondi tre cioè dopo pochissimo minuti comunque di gioco ti vengono e ti laserano con le loro armi ipotesi probabile che magari si comprano le loro armi senza fare il loadout poi ho visto che a volte si trova il loadout anche nelle casse adesso che si è sceso è impossibile perché se scende per gli altri scende anche per te dopodiché mi imbatti di un ragazzo ok ho messo la mia faccia che la vedete vi slunga per coprire lo streamer in questione e adesso mi munirò anche di coprire le scritte dei compagni comunque guardiamo un attimo che cosa succede allora praticamente recuperano i soldi per comprare il loadout e poi fanno questo glitch questo è un glitch del gioco è un problema del gioco che è rotto che spero che risolvano e perché vi porto questo video vi porto questo video perché fondamentalmente la gente viene accusata additata per la cronus gen chi perché ha fatto l'alloc tool chi perché magari ha fatto l'iniettata di cheat comunque tra tutte queste solfe di accuse tra i player legite i player che magari utilizzano la cronus gen o altre cose c'è anche questo problema qua che secondo me alcuni player considerati legit utilizzano questo glitch e adesso andiamo ad analizzare insieme vi ho tolto l'audio in modo che non si senta la voce del ragazzo andiamo ad analizzare insieme quello che succede allora come vedete hanno quasi fatto i soldi per il loadout ok adesso l'amico gli porta comprano due granate folgoratori e un lancio guardate che cosa succede adesso questo è un glitch del gioco che si può condannare come non lo si può condannare ok io non sono contro nessuno sono qui per farvi vedere il glitch se volete lo fate anche voi dopodiché ci lancia sta granata stira fuori il lancio e yahoo come per magia ragazzi loadout infiniti guardate un po' a google e questo purtroppo ognuno può fare le sue considerazioni le accuse che vuole ma questo lo può fare chiunque questo lo può fare chiunque forse questo va a spiegare anche perché ultimamente nelle lobby non hai tempo a nascere che trovi sempre gente che ti lasera con le proprie armi sempre e comunque c'è gente che muore e ritorna dopo un secondo c'è di nuovo le proprie armi allora il video possiamo considerarlo chiuso qua era un video breve per farvi vedere questo glitch del loadout infinito e che dire ragazzi se il video vi è piaciuto vi è interessato lasciate un like mi raccomando non lasciate insulti io vi ho semplicemente fatto vedere questo ne vi dico vi incito a farlo e neanche vi posso dare contro di non farlo è una scelta vostra io non l'ho fatto non lo faccio semplicemente perché a volte poi accade che non subito nell'immediato ma magari dopo un mese due o tre sento dire ragazzi sono stato bastonato senza aver mai usato niente senza aver utilizzato niente ecco ricordatevi che anche questi glitch abusare dei glitch del gioco a volte vi può portare a un ban magari non nell'immediato ma futuro probabilmente quando activision si accorgerà di questo secondo me lo fixerà subito mi sono stupito che non ho ancora visto video in giro non so se sono io il primo a portare questo glitch a farvi vedere o se ci sono già vi saluto a tutti buona giornata non so se sono